Comunque spero che con il suo appoggio potrò ottenere l'appalto della casa campaniera. No, 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 lei non deve sperare sul mio appoggio. E invece ci conto, io ci conto. È meglio che non ci conti, il progetto è già stato respinto dalla commissione. E allora non ci resta che ringraziare quel cretino che mi ha bocciato il progetto. Ah sì? E' anche quel cretino che ha dovuto bocciare il suo progetto solo io. E ora che la conosco dico che ho fatto bene. Mi permetta solo... No, lei non si deve sorprendere, conosco bene la sua situazione. Lei è sull'orlo del fallimento. Onorevole, lei mi insegna che quando uno parte senza capitale iniziale è con la penuria di liquido che c'è oggi, onorevole. Ah, perché lei vorrebbe fare l'industriale senza avere un capitale per iniziare. Lei mi vuole impedire di avere delle ambizioni soltanto perché nella vita io non ho avuto i colpi di fortuna che ha avuto lei. La ringrazio per la povera donna della sua moglie che la sta guardando se non gli avrai già dato una borsata a faccia. Onorevole.